Cosa prepariamo insieme oggi? Patate al forno croccanti, gustose e saporite, perfette per accompagnare secondi di carne o di pesce. Innanzitutto lava accuratamente le patate, tagliali a spicchi e trasferiscile in una ciotola. Versa le patate in acqua bollore. Aggiusta di sale e lascia cuocere per 3 minuti. Quindi scolale e trasferiscile in una ciotola. Lascia raffreddare le patate per qualche minuto e quindi condiscile. Aggiungi sale, rosmarino, pepe e un generoso filo d'olio. Mescola accuratamente e trasferisci le patate su una teglia ricoperta di carta forno bagnata e strizzata. Quindi cuoci in forno a 200 gradi per circa 30 minuti. Ed ecco le patate al forno croccanti, saporite, gustose, buonissime. Grazie per aver seguito questa videoricetta, ciao!